Se la numero uno, la tua mostra sarà un successo. Pensa solo a rilassarti. Come farei senza di te, amore? Che vuol dire siamo tutti qua? Scusa, lo vedi che sbaglia non parlare chiaro? Sei già così stressata e ti avvertono a cose fatte. È normale, è la mia famiglia. Vogliono sostenermi, farmi sentire al sicuro. Papà e Manu sono bloccati alla dogana. Manu ha ancora quel problema tra le gambe? Io lo chiamerei vantaggio. Qualcos'altro che avete dimenticato di dichiarare? E che cavolo è? Mingus, sei geloso? Chi? Io? Stai scherzando? Dovrei essere geloso solo perché il tuo ex è diversamente dotato, dorme sul mio divano? Perché martelli tutti con domande idiote? È sempre così di tini vita, tua sorella. Quello è il mio accappatoio? Sto familiarizzando. Stai cercando di insinuare, l'abbiamo fatta educare dalle suore. Sei di larghe vedute, vero, bel manzo? Sono un tipo all'antica. Da quando la tua famiglia è piombata qui, sembri un'altra persona. Papà, i genitori di Mingus... Oh, è mia madre, senza lingua. È solo vapore. Tuo padre riga le portiere delle macchine. Sei preso per dei selvaggi. C'è un autista qua fuori che chiede i danni. Figuratisi. Un'altra cosa. Non mentirmi, Marion. Sono alieni. Due giorni a New York. Che carino. Si è iscritto al Ku Klux Klan? Grazie a tutti.